Un progetto importante di salute è un progetto che sta portando anche dei dati molto interessanti, quindi ormai avete formato una banca dati e che cosa si rileva da questa banca dati? Noi, è un progetto che è nato appunto nel 2015, anche un po' prima, ma dal 2015 abbiamo iniziato a standardizzare la valutazione basandosi principalmente sui fattori di rischio cardiovascolari e da lì abbiamo raccolto tantissimi dati. Oggi abbiamo un database, quelli che si definiscono dei big data, con più di 20.000 soggetti valutati nel mondo reale, quindi non in ospedale, fuori dall'ospedale. Questa è una missione di terzo settore, prima c'era il direttore dell'Università di Piacenza, il direttore generale del Pochino Gemelli, questa è una missione di terzo settore, fuori dall'università, fuori dall'ospedale. Oggi questo database, con un pizzico di orgoglio non personale, ma italiano e dell'Università Cattolica e Polichino Gemelli, ci ha invidiato da tutto il mondo, perché ovviamente con le tecniche di machine learning e di intelligenza artificiale, oggi su quel database riusciamo ad estrarre dei dati straordinari che nessuno al mondo ha. E cosa si evince? Si evincono tante cose che stiamo andando a pubblicare, che dà soprattutto l'idea di quanto a volte alcune misurazioni semplici, dico l'ultima analisi che stiamo portando avanti, tipo la circonferenza della vita, la circonferenza del polpaccio, mettendo insieme queste due circonferenze che si prendono con la fettuccia della sarta, il metro della sarta, questo rapporto è un fattore di rischio, quando è sbilanciato più verso la massa grassa che la massa magra, un fattore di rischio straordinariamente importante per il diabete. Quindi noi significa che molto precocemente potremmo in qualche modo immaginare chi in futuro rischia di sviluppare una sindrome come il diabete. Potete ben capire quanto sia importante allora anche partecipare a questa giornata e anche sottoporsi a tutti i check-up, anche perché un check-up così completo solitamente non c'è. Professore, grazie per il grande lavoro che insieme ovviamente alla sua equip state svolgendo. Grazie a voi e noi non lo diciamo mai ma lo dobbiamo sempre sottolineare. Ovviamente il Pochino Gemelli e l'Università Cattolica ci supportano tutti quanti, ma qui abbiamo tanti medici volontari e il grazie va anche a tutte le persone, le aziende che io dico non ci sponsorizzano ma credono in noi, ci supportano. Oggi ne abbiamo alcune, non so se possiamo citarle, ma per esempio abbiamo l'Acqua di Fiugi che ci ha accompagnato in tutto il tour, abbiamo Nutrilite con una linea appunto sulla nutrizione, abbiamo la Pharmagy che credo qui è pronta per essere intervistata, la dottoressa Gurghes, abbiamo i farmacisti preparatori, i Genage, che ci regalano tra l'altro e regalano a chi fa il check-up tante cose. Oggi avete visto che abbiamo una maglietta molto bella, siamo orgogliosi che il nostro partner tecnico proprio per la corsa è Cisalfa con Diadora. Quindi insomma abbiamo veramente una cosa importante, la prevenzione passa anche attraverso l'informazione. Noi facciamo dei check-up molto diretti, misuriamo il colesterolo e la glicemia, però facciamo tanta informazione anche grazie alle aziende, per esempio sulla vaccinazione dell'importanza della vaccinazione dell'herpes zoster. Quindi abbiamo aziende come il GSK che ha questo vaccino e quindi facciamo sensibilizzazione anche su malattie come il fuoco di Sant'Antonio e la possibilità di prevenirle attraverso la vaccinazione. Poi abbiamo tante altre cose, ma quelle altre le venite a scoprire allo stand.